Ho spiegato ai ragazzi che è un film molto molto particolare, che ha bisogno del suo tempo. Bisogna ascoltarlo più che guardarlo. Il vostro sguardo è uno sguardo vero, autentico. Di questi film ne abbiamo visti tanti, ma questo film ha una sua temperatura, una sua idea molto chiara. Quindi io vorrei che voi diate un'idea del perché questo film è importante, così che i ragazzi possano comprendere meglio cosa vanno a vedere. È difficile per me parlare in inglese, per questo film in inglese, perché è parlato in Swahili. Sapete lo Swahili, voi l'Africano, lo sapete? Però non vi preoccupate che ti aiuteremo, ti aiuteremo. Fai il sottotitolo, sai? Quindi i miei amici hanno spento un anno e un po' in Africa, in Congo, per imparare cinema con i ragazzi. E il suo collega ha fatto un anno in Africa a imparare come fare cinema insieme agli africani. e quando gli metti il centro, il centro, per portare i soldati, i soldati, i soldati, i soldati, per tornare a reale vita, la vita di kid, quando gli metti il centro, mi chiedeva di venire con lui per fare dei film con questi bambini. Quando lui ha incontrato il CEO e il direttore dell'associazione che si occupa dei bambini e di aiutarli a rintegrarli, gli ha chiesto a lui di accompagnarlo e girare un film insieme a lui su questi bambini. Quando abbiamo incontrato questi bambini, quando abbiamo incontrato questi bambini, sappiamo che possiamo fare delle storie reali, con loro storie, per dare a loro. Quando hanno avuto l'opportunità di incontrare questi bambini, si sono accorti che potevano fare un film giocoso, ma allo stesso tempo importante. Quindi, piaceremo il film e parleremo dopo. Godetevi la visione e scriveremo bene. Grazie, grazie, grazie per aver guardato. Grazie per aver guardato. È molto importante per noi fare questo film, perché abbiamo avuto molti film prima di shoot the killer. In questo film, abbiamo shoot the kids after the war. È un film importante perché ci sono diversi film che parlano sulla situazione di questi bambini soldati, però questo è importante perché parla di bambini dopo essere stati soldati e dopo aver vissuto la situazione in cui ero messo. E godetevi la visione, grazie mille. Ragazzi, grazie, buona visione e viva il cinema!